Non mi faccio presentare, l'avevo in automatico perché so che mi tocca fare un saluto che faccio veramente con piacere. È il mio quarto anno di seguito che partecipo a questa celebrazione e mi piace sottolineare una cosa. Nel gennaio del 2014, il mio Pimones è qui in provincia di Frosinone, c'erano i manifesti in prefettura che parlavano di questo evento provinciale sul territorio e io ero pronta a intervenire ma non ho ricevuto nessun invito e la cosa ricordo perfettamente quando mi ha rattristato. Vedere oggi una manifestazione così ben organizzata e a lei comandando i miei complimenti e tanta partecipazione mi fa particolarmente piacere perché significa che abbiamo fatto molta strada insieme. Partire dalla mancanza del prefetto a un evento di questo tipo e arrivare oggi a una partecipazione così globale anche di comuni che vengono dal basso lazo, quindi più lontani, con più fatica, è sicuramente un punto di arrivo di cui mi pregio anche io. Scusate questo perché significa che si è lavorato sul territorio della provincia, si è fatto in modo che le cose vanno fatte insieme, che la sinergia interistituzionale non è solo un'espressione dialettica ma deve essere una partecipazione attiva alle attività che si fanno. Ieri c'è stato partecipato a un convegno arminiale che proseguiva anche oggi alla presenza del Ministro dell'Inverno e tutti i miei colleghi, la maggioranza erano in zero in Roma. io ho chiesto scusa, ma dico sono impegnata con il mio San Sebastiano, il mio territorio va curato e seguito, molti colleghi restano da Roma. Quindi come vedete anche da parte dei prefetti è una scelta comportamentale che ognuno di noi segna un proprio indirizzo e il mio indirizzo è quello della cura del territorio, dell'amore del territorio, della sinergia aspetto al territorio e credo che voi tutti lo sappiate che lo faccio. E questa risposta di oggi, con lo sito globale, credo che sia un lavoro sinergico che insieme al Presidente della provincia e anche al Sitaco di Terentino abbiamo fatto nel corso di questi anni. Allora, ricordate San Sebastiano. San Sebastiano è stato detto, molto è stato detto, quindi è difficile aggiungere qualcosa di diverso, ma era a capo dei frettoliani, a capo della polizia locale nel tempo e quindi bene fatto a Papa Pio XII individuare come figura di riferimento, come padrone delle polizie locali, uno che è stato a capo di una polizia locale, ma che è stato anche un uomo simbolo che ha abbinato tre cose insieme, il rispetto ai valori istituzionali, quindi alle regole dell'ordinamento dell'epoca c'era, e l'amore per la sua società, l'amore per il sociale, tutto si è fatto cinque. Il personaggio, quindi, che è impersonato quello che oggi è il tipico rigide urbano, che deve avere una tubice attività, consentire alla società di vivere al meglio le proprie possibilità e nello stesso tempo fa rispettare le regole. Non sempre è un compito semplice, non sempre è un compito, come dire, accettato da tutti. Il vigile urbano al primo approccio è sempre un approccio non sempre positivo e quindi è un doppio complimento che va fatto ai vigili, che devono essere il primo biglietto da visita di un'amministrazione comunale. Io nella mia attività pregressa ho fatto tante attività di formazione per le polizie nazionali e anche per le polizie rurali. Ho insistito sempre su un punto, la comunicazione. Il primo approccio che il vigile ha con la cittadinanza, con il turista, con chi chiede un'informazione deve essere un approccio positivo, che deve far risporre bene verso quella divisa che si indossa. E nello stesso tempo, da parte dei vigili, non può che esserci rispetto di quella divisa e contenere sempre le proprie emozioni perché chi indossa una divisa deve sapere il peso all'uomo e all'onore di avere questo compito. Quindi, primo biglietto da visita e poi un impegno, un impegno doppio, un impegno di comunicazione ma anche un impegno di sostanza, un impegno del fare. Perché è importante essere vicino alla cittadinanza, far capire che al rispetto delle regole è una cosa che si deve fare, cioè non c'è solo un dovere morale verso le cose ma c'è anche un dovere giuridico e se c'è un diritto di sosta, non è rispettato un diritto di sosta. Questo molto spesso a voi è richiesto un duplice ruolo, quello dell'opportunità, della sensibilità verso gli anni di fronte ma anche l'impegno e la durezza a volte di fare attività di repressione perché molto spesso non passa la prevenzione. Se necessario la presenza di danni o divise che si indegno nella prevenzione è anche necessario a volte dare come esempio anche drastico avere un momento di repressione. Però a voi che dire? Abbiamo fatto i complimenti a voi e tutti insieme vi vedo collegialmente presenti ma io richiederei ancora una cosa di più. All'ordinamento in generale, alla regione in particolare, di investire ancora su di voi con un'attività formativa ma anche con un'attività unitaria. Mi piacerebbe vedere le stesse divise, lo stesso possibilità di portare un'arma con voi. La cosa che si vorrà richiedere è avere un ordinamento quanto più possibile similare a livello regionale perché così fa di voi un corpo allargato, un corpo che con le sue diversità ordinamentali a livello di comuni ma ha degli indirizzi e delle politiche non solo provinciali ma anche regionali che siano più abiliate. Se c'è una polizia che ha un'arma è necessaria e dispensabile che ce l'abbiamo tutti. non perché io propagando e provendo per gli altri ma un minimo di difesa lo dovete avere anche voi e quindi questo cerco di portarlo, questo discorso e questi vicini a tutti i tavoli interstituzionali perché è necessario l'uniformità, l'uniformità di vedute, l'uniformità di ordinamento, l'uniformità di macchine divise e quant'altro. perché quando si va, che ne so, i vostri conveni nazionali ad Abano-Riccione e si vede questa diversità di macchine lì, non è sempre una cosa molto piacevole. Ma detto questo, cosa altro aggiungere? I miei complimenti per l'operato, i risultati ci sono stati in questi anni e ce ne saranno anche di più perché voi se vi permette sempre a nuovi compiti, tant'è vero che la legislazione l'ultima, parla della legge 48 della fine dello scorso anno, a voi ha dato innovativi compiti perché richiedendo ai comuni sempre più sinergia con gli affarati nazionali, a voi ha delegato ancora di più la possibilità di accendere alle carnerate delle polizie locali. Approfittate di queste opportunità perché anche per voi sono momenti di crescita. L'ordinamento segue quanto la società è pronta a ricevere una rarità di inizi. Allora anche questo è importante, ma a voi tutti il ringraziamento non può che essere ancora una volta, può spandere da parte di tutti perché vi impegnate per una società migliore, perché il vostro impegno e il nostro come autorità nazionale è sempre uno, il bene della collettività, unico obiettivo comune che dobbiamo tendere e raggiungere. E a voi l'augurio che possiate rendere sempre il meglio della vostra attività con un impegno costante e a voi che dirvi, noi ci saremo, con voi andremo sempre meglio. Grazie e congratulazioni a voi.